Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, domenica, domani come sapete lunedì e noi facciamo Quarta Repubblica, quindi mi raccomando cercate di essere più numerosi possibili per la puntata di domani di Quarta Repubblica in cui ci sarà il discorso di Conte alla Camera e la sua fiducia che con grandissima agilità prenderà. Oggi la rassegna stampa di oggi dovete avere pazienza, sapete che dura in genere 10-12 minuti, questa rassegna stampa è anche un po' troppo, devo dire la verità, per quello che talvolta non c'è scritto sui giornali, ma oggi la rassegna stampa si deve concentrare solo su una, una sola cosa e cioè ieri Mattarella, il Presidente della Repubblica Italiana, ha mandato in un consesso di business, come lo chiamano loro, cioè Cernobbio, ha mandato una comunicazione dicendo che si deve superare il patto di stabilità e a me, io dico a questo punto veramente vale tutto, cazzo, vale tutto. Voi mi dovete spiegare una cosa, io oggi non l'ho trovata sui giornali perché tutti quanti i giornali oggi titolano il Presidente della Repubblica chiede che si vada a cambiare il patto di stabilità, ma quale titolo? Il Presidente della Repubblica Italiana, secondo quale cavolo di norma o come possiamo dire articolo della Costituzione può chiedere che si cambi un trattato internazionale? Punto primo, senza nessun criterio, cioè questi altri erano dei barbari, quello però è un perfetto istituzionale uomo delle istituzioni che dice a Hillary Clinton, al generale Petreus, perché questo poi sarebbe la community del business della straminchia di Cernobbio, perché il business non sta a Cernobbio, cari amici, poi ne parleremo dopo, il business non è quella roba lì al lago di Como, il business è la gente che lavora e sta a casa e che la Hillary Clinton non la conosce, ma questo è un altro discorso. E questo titolo, oggi prima pagina, oggi non riesco a leggere, come posso dirvi, nessun commento indignato sul fatto che il Presidente della Repubblica Italiana sta diventando come Cossiga. Seconda questione, ma se il Presidente della Repubblica Italiana Mattarella avesse detto che si deve cambiare il patto di stabilità e al governo non ci fosse stato il governo dei suoi amici, Ministro dell'Economia, Ministro degli Esteri, penso a questo punto, Presidente del Consiglio, ma ci fosse stato ancora Salvini e i suoi barbari che dicevano da tempo che si sarebbe dovuto cambiare il patto di stabilità e dicevano che si dovevano cambiare i trattati europei, che cosa sarebbe successo se il Presidente della Repubblica avesse chiesto una cosa di questo tipo? Non cinque anni fa, un mese fa, quando invece la stessa cosa veniva chiesto nei mesi scorsi. Io ieri ho scritto un pezzo sul giornale in cui dicevo che il deficit oggi non vale, prima valeva per tutti, il 3% oggi non vale più, ma oggi mi trovo più nel Presidente della Repubblica con il carico del Presidente della Repubblica che chiede che si cambi il patto di stabilità europea che vincola noi italiani a sforare massimo al 3%, anzi il Fiscal Compact dice che noi dobbiamo essere più seri degli altri perché abbiamo un debito del 135%, io dico vale tutto, vale tutto a questo punto, un sottotitolo di un giornale dice la Francia è già d'accordo con voi, è fantastico, il Presidente della Repubblica dice questa cosa e la Francia è già d'accordo con noi, beh insomma io vorrei Cottarelli, vorrei Alesine e Giavazzi, vorrei Fubini, vorrei i pensosi pezzi di Giannini, vorrei tutti gli editorialisti italiani che facciano un culo così al Presidente della Repubblica, non glielo faranno ovviamente perché il Presidente della Repubblica non si tocca e domani attraverso i suoi criminalisti farà capire che cosa intende su questa cosa, ma avete capito il tono, cioè siamo in un mondo in cui a questo punto una volta che il PD ha il governo vale tutto, cioè ve la voglio dire in maniera esagerata, il problema è che Mattarella ha detto le stesse cose di Bagnai, ma Bagnai è insopportabilmente inaccettabile, Mattarella ha 50 anni di storia democristiana, non vedo quale sia la differenza, dettagli, dettagli perché se una cosa la dice il Quirinale e la dice in quel modo va bene, oggi tutti i giornali là a Pecoroni a sentire il Presidente della Repubblica e non uno che alzi la testa e dica scusi Presidente della Repubblica, ma forse questa volta sbagliato, sia quello che dice, sia come lo dice e sia perché lo dice, una lettera a Cernobbio, seconda questione a Cernobbio, tutti i pezzi di oggi, tranne forse con l'eccezione di Dario Di Vico che mi sembra come sempre uno dei più grandi conoscitori delle questioni dell'economia e della finanza, meno importante, insomma il 90% delle persone dice il mondo del business accetta questo governo, può essere che il mondo del business accetti questo governo secondo voi? Io non lo so se lo accetta o non lo accetta, so quello che scriveva ieri il Corriere della Sera e quello che scrive oggi dicono altri sondaggi oggi, cioè che maggioranza italiana questo governo non lo vogliono, ma quello che io non sopporto è considerare il mondo del business Cernobbio, non perché ci sia nulla di male, il mondo del business è il mondo di chi produce fattura, vende e in genere il business è tanto più complicato, tanto a dimensioni inferiori, poi diventano complicazioni diverse, si hanno logiche manageriali, cioè il business è una cosa complicata, voi mi dovete spiegare che cosa c'entri col business il governatore della banca centrale, cosa c'entrano i ministri, cosa c'entrano i vicepresidenti del consiglio, cosa c'entrano i vicepresidenti americani, cosa c'entrano gli ambasciatori, cosa c'entrano i generali, cosa c'entrano gli intellettuali, cosa c'entrano tutte persone degnissime, ma che col business non c'entrano assolutamente una minchia, capite? Cioè quello non è il mondo del business, quello si è autoproclamato il mondo del business, è il mondo dell'establishment, solo che si ha paura di dirlo, che cos'è Cernobbio? È un importantissimo riunione dell'establishment mondiale, italiano con un po' di roba mondiale, allora non raccontiamo palle, col business quella roba c'entra soltanto incidentalmente, il mondo del business ama questo governo, no il mondo dell'establishment lo ama, il che va bene ugualmente, ma non confondiamo pere con le patate, sono due cose diverse, ci sono un po' di imprenditori ancillarmente che fanno parte di questa roba, secondo voi il mondo del business è rappresentato dai grandi boiardi di Stato o anche manager di Stato, sono loro a rappresentare il grande business, sono loro a dare un giudizio sul loro azionista in maniera, come possiamo dire, ve l'ho già detta ieri interessata o disinteressata, no ovviamente, Berlusconi oggi fa un'intervista al giornale e dice mai con questo governo, ma noi l'opposizione la facciamo in Parlamento e non in piazza, riferendosi alla manifestazione di piazza di domani davanti alla Camera di Meloni e Salvini, da Meloni peraltro ci vedremo domani sera a Quarta Repubblica perché sono curioso di capire quanto e come faranno opposizione, ma la cosa vera da capire è quanto l'opposizione di Berlusconi e questo comunque lo dice chiaro e netto Berlusconi, speriamo che mantenga come possiamo dire l'intendimento, secondo Berlusconi l'opposizione a questo governo sarà durissima, nettissima e soprattutto chi vorrà andare da quelle parti lì del governo verrà cacciato da Forza Italia. Vedremo quello che farà Berlusconi, Berlusconi ci ha impressionato nel passato per dei colpi di testa, mi ricordo quella fiducia al governo letta che uno non si sarebbe aspettato e forse era meglio che non se lo aspettasse, apro la parentesi e chiudo la parentesi e quello che è del tutto chiaro ed evidente è che a questa opposizione un po' acerba nei modi e talvolta nei gesti ma condivisibile di Salvini e Meloni, forse un vecchio saggio che gli dia una mano a fare un'opposizione puntuta sui fatti, nei palazzi, non sarebbe male. Ancora gode il fatto quotidiano che non gli hanno nominato capo di gabinetto a qualcuno all'economia perché quando prendono il fatto iniziano la loro battaglia diciamo sansepolcrista e continuano fino alla fine e infine il nuovo oggetto del, vedrete, dell'odio da parte dei grillini che si dice, e quindi del portavoce dei grillini che è il fatto quotidiano è questa De Micheli che in realtà è l'unica all'interno di questo governo che sta dicendo una cosa molto ragionevole, cioè di rifare la gronda, di fare la TAV, di rimettere in sesto quelle infrastrutture che quei cazzoni non della Lega ma del Movimento 5 Stelle hanno bloccato, chiaro? Perché questo è l'altro grande paradosso dell'establishment che ama questo governo. Quelli che bloccavano le infrastrutture su cui loro ovviamente insistono non sono quelli che sono usciti, sono quelli che sono rimasti. Io una cosa incredibile, beh insomma la De Micheli che di fatti grazie al cielo sta cercando di sbloccare le infrastrutture perché ha fatto fuori Toninelli e quelli che le bloccavano, oggi è una che secondo la locuzione di travaglio come emana cemento da tutte le parti, come se il cemento fosse una cosa negativa. Il cemento è civiltà. Io vorrei che qualcuno ogni tanto ci pensasse questa cosa. La differenza tra noi e gli uomini della pietra è il cemento. Noi abbiamo le case che non cadono, non dovrebbero cadere, abbiamo le case comode, abbiamo l'aria condizionata come dice la mitica frase di Nicole Paglia e cioè noi abbiamo dei ragazzi, degli adolescenti che danno per acquisito l'economia dell'aria condizionata. Non lo è. Si sono fatti un mazzo così, economisti, imprenditori, scienziati, per farci vivere in questo mondo. Ma comunque chi se ne frega. Ovviamente il verdismo continua sulla Repubblica e su tutti gli altri giornali innamorati della nuova battaglia ambientalista. Io per il resto dei giornali li ho letti poco oggi ve lo dico perché l'unica cosa che mi serviva a capire era sta roba di Mattarella che proprio non mi è andata giù. Ciao, ci vediamo lunedì sera, mi raccomando, guarda Repubblica.